Musica Giovedì 16 marzo, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa. Prima dei quotidiani c'è la cronaca Ladri inseguiti e fermati sulla Trignina Valentina Ceralante. Task force contro i ladri da parte dei carabinieri dopo i numerosi episodi di furto registrati negli ultimi giorni tra Isernia e Agnone. Proprio i militari della compagnia altomolisana nelle scorse ore si sono imbattuti in un'auto sospetta lungo la statale 650 Trignina in territorio di Pescolanciano. A bordo un gruppo di uomini incappucciati che alla vista dei militari in servizio e in abiti civili hanno inchiodato il veicolo e sono fuggiti a piedi nelle campagne circostanti. I carabinieri si sono lanciati all'inseguimento e sono riusciti a fermarne uno, mentre gli altri si dileguavano nella vegetazione con la complicità della notte. Potrebbe trattarsi della banda che due giorni fa si è introdotta in alcune abitazioni di Agnone proprio in seguito. A quei casi il comando provinciale dei carabinieri di Isernia aveva predisposto un ampio servizio di controllo nell'area, prevedendo un importante spiegamento di uomini in borghese e in divisa a pattugliare la zona. Le indagini dell'arma proseguono. Restiamo sull'argomento perché sono stati arrestati i tre ladri considerati gli autori del colpo messo a segno in un bar di Colletorto. Sono tutti pugliesi il più giovane a solo, 14 anni, i malviventi erano entrati nella notte nell'attività commerciale. Di loro si è accorto un residente che ha immediatamente allertato i carabinieri dopo un inseguimento. I ladri sono riusciti a fuggire nelle campagne, approfittando del buio, ma all'alba sono stati acciuffati ad un paio di chilometri da Colletorto, grazie alla segnalazione di un agricoltore. Sono dunque scattate le manette per i tre originari di Sansevero, Apricena e Foggia. I quotidiani, primo piano Molise, l'apertura è sulla politica, regionali il centro-sinistra prova a chiudere la partita. Convocata la riunione plenaria del tavolo, Federico rassicura gli alleati, no alle primarie, ma i nomi saranno vagliati dal territorio, dai 5 stelle, nessuna in posizione calata dall'alto, rinvigorito dal congresso, il PD stringe i tempi, programma e leader entro Pasqua. Pronte sei liste. Le altre notizie. Cresce l'allarme furti, lo abbiamo visto anche dal servizio, ha Colletorto l'auto dei ladri bloccata dai residenti. Dopo un tentato colpo al bar, i tre, tra cui un minore, fuggono a piedi nelle campagne, presi grazie alla segnalazione di un agricoltore sulla trinina, inseguita un'altra banda. Asrem, cercasi anestesisti e rianimatori, rispondono 12 medici stranieri. La quattro corsie della porta sollecita Salvini. Il Molise non può più aspettare. A Campobasso la cattedrale rimane chiusa per la quinta Pasqua consecutiva. Tre fontane, l'acqua di Sepino, presto di nuovo sulle tavole degli italiani. E poi c'è questa notizia che riguarda l'Unimol, malattie e farmaci. L'Università degli Studi del Molise punta sull'intelligenza artificiale. Alzheimer e tumori indagati con un microscopio unico in Europa di spalla. C'è il punto di Umberto Berardo, i fenomeni migratori. Sotto la testata ci sono i richiami di sport. Il Campobasso successo con goleada sulla Gioiese e vantaggio a più 5 sull'Isernia. Termoli, la puntalo-russo lancia il team giallorosso a Senigallia per i tre punti. E poi c'è la giustizia sportiva post-derby di Serie D. Una giornata ai tecnici Esposito e Coletti. Lasciamo primo piano Molise. Vediamo l'apertura del centro. Usura e locali. Ecco gli affari dei clan. L'inchiesta sulla mafia foggiana Pescara adesso è caccia. Ai presta nome. In taglio alto, sotto la testata, l'economista Mauro, lavoro ed export. L'Abruzzo se la caverà. E poi concessioni balneari all'asta. Penalizzate tante aziende familiari. Il virgolettato è del Sib Conf Commercio. E poi le altre notizie. Anziano si butta dalla finestra, preso al volo da un operaio. Chieti il salvataggio. Si parla anche di poca acqua. Sarà un'estate di disagi. Pescara. Le previsioni del presidente dell'ACA. Brandelli. Possibili interruzioni del servizio. La fotonotizia è dedicata allo sport. Al Pescara che perde. E Zeman sbotta. Non ci è riuscito nulla. Dunque è arrivato il primo K.O. per il Boemo. La prima pagina del messaggero Abruzzo. C'è un virgolettato nel titolo di apertura. Abruzzo, regione imbilico. Banc'Italia. Il report illustrato davanti a professori universitari, studenti ed economisti, i tanti laureati spingono la crescita. Bene le imprese, ancora poca digitalizzazione. E poi lo sviluppo. Protocollo ZES entra anche la Val di Sangro. in taglio centrale. Io, maestra esclusa. Adesso sostenetemi. Parla una delle maestre di sci del caso Elezioni. Le insegnanti incinte, escluse dal voto per l'ordine. Parla Simona di Padova in taglio alto. Prima, scusatemi, c'è l'emergenza idrica. Finito il lavoro della commissione d'inchiesta. Audizione di sospiri all'ultima seduta. Stamattina la presentazione dei risultati conseguiti. Poi, vi dicevo, in taglio alto si parla di sport. Si parla del Pescara e del primo K.O. di Zeman. Colpa del vento. Lasciamo i quotidiani molisani e i da abruzzesi. Vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali. Molte aperture sono dedicate al crollo di Credit Suisse con le borse a picco. È il caso del Corriere della Sera. I mercati europei bruciano 355 miliardi. Piazza Affari, la peggiore, chiude a meno 4,6%. La banca elvetica al minimo storico dopo il no saudita ad una iniezione di liquidità. La BCE chiede le esposizioni agli istituti. In taglio centrale c'è una notizia che troveremo su tutti i quotidiani. Gli scontri con gli ultratedeschi. Guerriglia, Urbana, a Napoli in 600. Da Francoforte e Spalletti va ai quarti con Inter e Milan. Altra notizia presente sui quotidiani è lo scontro in aula tra Meloni e Schlein. Meloni no al messe e al salario minimo l'attacco di Schlein in aula. La Premier al Question Time. Vediamo la prima pagina ora di Repubblica. Valanga Svizzera sui mercati. Dunque anche Repubblica sceglie l'apertura sul crack di Credit Suisse. Crollo in borsa dell'Istituto Elvetico. Per il no dell'azionista saudita a un aumento di liquidità. Crisi del credito in tutta Europa bruciati. 355 miliardi da lunedì. Titoli delle banche italiane hanno perso il 15%. Palazzo Chigi. Monitoriamo l'esposizione ma per ora non c'è allarme sulla tenuta. Fisco, Landini contro il governo, gare del PNRR il 70% senza quote per donne e giovani. In taglio centrale c'è la politica. Meloni, Schlein, duello in aula su salario minimo e diritti. Ma c'è anche l'inchiesta sotto la lente dell'antimafia. Il tesoro iniziale di Berlusconi. Il pezzo è di Lirio Abate. Un nuovo documento giudiziario riapre lo scenario sull'origine dell'impero di Silvio Berlusconi. Abate ha dei documenti che propone nel suo pezzo. E ancora, tifosi tedeschi devastano Napoli. Un'altra debacle del ministro Piantedosi. Champions, Eintracht, KO. Partenopei ai quarti di finale della manifestazione. I quotidiani romani. Iniziamo dal messaggero. Napoli ultra fuori controllo. Questa l'apertura. Gli incidenti previsti e il sostegno della UEFA. E poi, nei particolari, tifosi dell'Aintracht senza biglietto devastano il centro. Incendiata un'auto della polizia. Ritrovata una pistola. Spalletti e compagni ai quarti. Servizi. Dieci agenti feriti. 24 ore di guerra in strada. E Berlino si scusa. La Lega, la Germania, ora paghi i danni. Violenza trasversale. Alleanze e vendette. La mappa dei teppisti. In taglio centrale crolla. Credit Swiss. Borse giù. I sauditi si defilano. Scatta il panico. Le autorità di Berna pronti a intervenire. Palazzo Chigi. Massima attenzione. BCE controlli. E oggi decisione sui tassi. Primo duro faccia a faccia tra leader in aula. Meloni no all'Unione Europea su MES e case green. E sul salario minimo è lite con Shalane. Il tempo, l'altro quotidiano romano che ovviamente ha un posizionamento ben chiaro. Meloni in Parlamento. Difendiamo gli interessi italiani. Premier attaccato sui migranti. Chi ci critica non dice una parola sugli scafisti. La scelta verde dell'Europa non deve distruggere l'industria. MES sia utile agli stati. Scintille con la segretaria del PD. Vive in un mondo ideale. Io sono pragmatica. E poi in taglio centrale c'è Oscio che si scatena sul reddito di cittadinanza. e sul fatto che la Shalane ieri lo abbia chiesto fortemente ma ha dimenticato di dire che il primo a chiederlo è stato Conte. Ebbene, scontro tra Conte e Shalane per intestarsi il salario minimo. E quindi Oscio immagina questa conversazione, ovviamente ironica, roba che la prima volta che ho parlato del salario minimo te facevi ancora. Pio pio, dice Conte. La Shalane. Ah sì? E allora perché non l'hai fatto quando hai governato? Caro il mio avvocato del Bobolo. È davvero tremendo Oscio, soprattutto nei confronti di Conte. Il fatto quotidiano. Vediamo l'apertura. Arriva il condono preventivo per le imprese che evadono. Fisco alla Meloni. Chi promette controlli interni, evita verifiche e sanzioni. CGL, ritiro o sciopero. La delega del governo favorisce i redditi medi e alti. Svuotata l'IRPEF. L'obiettivo è la flat tax per tutti, ma intanto si aiutano i professionisti. E poi primo scontro tra due. Salario. Shalane versus Meloni. Conte. C'è chi dice ni. In taglio alto. È stupido parlare soltanto di armi. L'ONU c'è ancora. Ucraina. Intervista al Vescovo di Milano. Vediamo anche la prima pagina del manifesto che, come di consueto, sceglie una grande foto, un titolo molto breve, una sola parola, cingolata al suo primo question time, Meloni alza i toni sulla difesa dei confini. da qui il titolo cingolata e accusa l'opposizione di calunniare l'Italia. Barra verso Salvini anche su MES, nucleare e ponte di Messina. Duello con Shalane sul salario minimo. in taglio alto, sotto la testata, contagio svizzero, borse K.O. Dunque anche il manifesto si occupa della vicenda che ha interessato Credit Suisse, che trascina i mercati mondiali. Uno sguardo veloce anche alla prima pagina della verità. Dopo l'Unione Europea, il PD attacco alla casa. Il governo prepara le barricate contro la patrimoniale Green. La Shalane rilancia un pallino del suo partito, espropriare le abitazioni private non affittate e consegnarle a chi non riesce a ottenere alloggi popolari. E il prefetto di Ferrara vuole fare lo stesso per ospitare gli extracomunitari. È la solita tassa dei buoni statalisti. Il pezzo è del direttore Maurizio Belpietro. In taglio centrale, 600 tifosi tedeschi devastano Napoli. E questa immagine spiega più di ogni altra parola. In taglio centrale, crolla pure Credit Suisse, borse alle corde. E a proposito della vicenda finanziaria che riguarda Credit Suisse, l'apertura la prevede il sole 24 ore, crisi bancaria, il Credit Suisse affonda, un'altra giornata shock per le borse, credito no dai soci sauditi a nuova liquidità e il titolo crolla piazza affari giù del 4,6% dopo il pressing dell'istituto. la Banca Centrale Svizzera garantisce i fondi necessari. E poi, altra notizia, Meloni no al salario minimo, taglieremo le tasse sul lavoro, l'Italia non accederà al messo, lo ha detto durante il question time. Chiudiamo con la gazzetta dello sport, con la rosa che ovviamente celebra il Napoli. Napoli, Napoli e tre dopo 17 anni, tre italiane tra le otto grandi d'Europa, travolto l'Eintracht, 3-0 con doppietta di Osimène, Spalletti nella storia, prima volta ai quarti. Scontri tra Ultras, attacco alla polizia, centro devastato. Stasera tocca alla Juve, ritorno degli ottavi con il Friburgo, 18-45, Allegri difende un gol e ricarica Vlaovic, e tocca anche alla Roma contro la Real Sociedad, Morigno parte dal 2-0, Di Bala si aspetta una notte real. Bene, tutto. Prima dei saluti, diamo uno sguardo al Parincesto, cosa troverete oggi sulla nostra rete, c'è il teatro speciale Anamanacanda alle 11, e poi piazza Molise Ferrazzano alle 12, alle 14 l'informazione in diretta dagli studi di Campobasso, alle 14.45 un caffè insieme, alle 16 il teatro, il sessa e un malamente, poi alle 19.30 ancora l'informazione, alle 21 non perdete Molise Sport, con Francesco Presutti alle 23, l'ultima edizione del nostro notiziario. È davvero tutto. Grazie per averci scelto, buona mattinata, arrivederci.